Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della famosissima valvola EGR. Parleremo di tutti gli aspetti positivi e negativi, ovviamente, perché ce ne sono tantissimi negativi, soprattutto per i nostri motori, di cui si discute praticamente da quando l'hanno inventata. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e un like. La valvola EGR nasce negli anni 90, che si chiamava a depressione, ma lo scopo di questa valvola è uno scopo abbastanza semplice, cioè abbassare le emissioni degli ossidi di azoto, i famosi NOx. Per fare questo, la soluzione è stata trovata utilizzando questo tipo di valvola, che semplicemente prende parte dei gas di scarico, che escono dal motore, dalla combustione, vengono in una certa percentuale, più o meno tra il 5 e il 30%, ripresi e li rimette nel collettore d'aspirazione, praticamente dove passa l'aria nuova, quella pulita. Quindi dal filtro dell'aria si aspira l'aria per farla entrare dentro il motore e lì ci sarà il punto nel collettore in cui si misceleranno anche i gas di scarico che stavano uscendo dal motore e invece vengono reindirizzati di nuovo all'interno del motore per essere bruciati praticamente una seconda volta. Quindi il principio è molto 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 semplice. Una volta c'erano queste valvole EGR pneumatiche, per cui il funzionamento avveniva tramite la pressione, che è l'aria, passando attraverso il collettore d'aspirazione, attraverso un tubicino che era collegato alla valvola EGR, praticamente la valvola EGR si apriva a seconda della quantità di pressione che c'era di aria pulita, dell'aria nuova, e si apriva e miscelava i gas di scarico. Ovviamente questo processo non si potrebbe fare con dei gas di scarico molto molto caldi, quindi la valvola EGR è collegata a uno scambiatore di temperatura, serve semplicemente ad abbassare la temperatura di questi gas di scarico, per permettere poi di nuovo la combustione. Bisogna sapere che la valvola EGR non è in funzione in due momenti. Non è in funzione quando si accende la macchina, quindi quando la macchina è al minimo, e non è in funzione quando la macchina è al massimo. In linea generale, più o meno in tutte le macchine, diesel e anche benzina, funziona nel range tra i 1000 e i 3000 giri. Lì la nostra valvola inizia a parzializzare. Il tempo la valvola EGR si è evoluta, e le normative europee ovviamente sono sempre più stringenti, verso l'inquinamento, sono state inventate delle valvole EGR elettroniche, quindi collegate direttamente alla centralina. In questo modo è stato molto più semplice parzializzare i gas di scarico, e quindi la percentuale, il momento in cui questa valvola doveva mettersi in funzione, e doveva parzializzare in sostanza l'aria e i gas di scarico. Oggi sono presenti in quasi tutte le automobili, addirittura le valvole EGR a doppio stadio. Sostanzialmente il concetto è sempre lo stesso, quello di reimmettere i gas di scarico all'interno del collettore, però in questo caso qui si fa in due momenti. Prima la valvola EGR si trova a monte del compressore, invece la seconda si trova sullo scarico. Una è ad alta pressione, ovviamente perché c'è un compressore di mezzo, e l'altra è a bassa pressione perché si trova nella parte finale dello scarico. Perché è sempre sotto torchio questa valvola EGR? E perché si dice che distruggano i motori? La valvola EGR fa un lavoro che in realtà a noi serve, perché se no non esisterebbe. Per la nostra salute ovviamente è uno strumento importante, perché abbassa le emissioni degli NOx. La valvola EGR ha proprio la funzione di prendere dei gas sporchi e di reimmetterli nel motore in una zona in cui questi gas sporchi non si dovrebbero stare, dove dovrebbe passare soltanto aria pulita. Vi parlo del collettore di aspirazione, vi parlo della stessa valvola EGR, che comunque subisce dei passaggi di fumi sporchi, punterie, valvole, quindi il motore stesso, tutte le parti in cui passa l'aria, quindi all'interno di tutto il motore, facendo passare di nuovo dei gas sporchi, questi porteranno dietro dei depositi, e questi si depositeranno e costruiranno i famosi depositi carboniosi, quelli che poi bisogna andare a togliere quando abbiamo i problemi all'automobile. Un'EGR sporca ci può dare tanti problemi diversi. Si possono accendere diverse spie. Può accendere la spia del motore, che vuol dire sempre un miliardo di cose, la spia delle candelette, la spia del debimetro, la spia dell'EGR anche c'è, c'è anche quella, però anche la spia del debimetro si accende perché magari c'è un rilevamento di massa d'aria che non va bene, perché la valvola EGR magari è sporca e il debimetro fa delle letture errate dell'aria che passa. La macchina può andare a strattoni, quindi se avete una macchina che va a strattoni, potrebbe essere perché, ad esempio, avendo un'EGR bloccata aperta, quella stando sempre aperta, ovviamente fa passare sempre il gas di scarico, non li parzializza correttamente, e quindi la macchina va a strattoni. Il collettore intasato ovviamente ci porterà a degli strattonamenti, le sedi delle valvole intasate ovviamente ci porterà a strattonamenti e a malfunzionamenti del motore, come ad esempio anche le punterie e i meccanici, mani nei capelli, perché effettivamente anche trovare la soluzione a un problema del genere non è proprio semplicissimo. Pensiamo anche al fatto che quando abbiamo valvole EGR, le sonde lambda, le sonde lambda sono delle sonde che rilevano praticamente i gas di scarico e quindi leggono la qualità dell'aria prima e dopo la valvole EGR in diversi punti anche dello scarico proprio. Se quelle sonde hanno delle letture errate, non per forza sono rotte le sonde, quindi molto spesso cosa succede? Succede che il meccanico vede che c'è una lettura sbagliata di una sonda, la sostituisce, spendiamo 50, 80, 100 euro per cambiare una sonda, la rimettiamo in funzione e dopo 50 chilometri la macchina torna con la spi accesa e siamo da capo. Questo perché probabilmente la valvole EGR ha un problema, ha una perdita, è intasata e la lettura della sonda lambda è errada per colpa di un altro componente. Se il meccanico non è scaltro, ovviamente la prima cosa che fa è quella di cambiare il pezzo più semplice che c'è in catena, che è la sonda lambda, quella per cui lui vede degli errori magari, sospetta che ci siano degli errori. E di sonde lambda ce ne sono due, ma anche quattro. Succede spesso questa cosa delle pie accese e può succedere molto molto presto. Anche a circa 50.000 chilometri di vita del motore possiamo ritrovarci un motore completamente intasato. Quali sono i rimedi per tutto questo? I rimedi sono una pulizia costante, quindi pulire la valvole EGR in tempo ovviamente è una buona soluzione per tenerla pulita. Comprare un'auto che ci costa 40.000 euro e andare ogni 50.000 chilometri a far far tutta la pulizia delle valvole EGR comincia a diventare una discreta spesa. Nessuno vi dirà mai da un concessionario guarda che poi devi fare la pulizia della valvole EGR è difficilissimo che ve lo dicano. Ovviamente si aspetta che il motore si blocca e poi sono cavoli amari e bisogna spendere un po' di soldi per sistemare tutto. L'altro sistema, quello di cui si parla ovunque, cioè l'esclusione della valvole EGR. Una volta, lo li ho visti anch'io personalmente, nei motori vecchi, quegli anni 90, in cui c'erano le valvole a depressione, quindi quelle meccaniche, c'era questo famoso tubicino che leggeva meccanicamente in maniera pneumatica la pressione dell'aria del motore che veniva dal collettore e quindi bastava prendere quel tubicino, tapparlo con una vite e il motore, ciao, andava benissimo, passato da strattonare fumare nero a andare perfettamente. Oggi ovviamente non è più così perché l'esclusione della valvole EGR, essendo gestita da centralina, va fatta da centralina, quindi il meccanico prende 200 euro e vi fa l'esclusione della valvole EGR. Adesso, in questo momento qui, che ci sono due valvole EGR, quelle a doppio stadio, bisogna escludere la prima, quella ad alta pressione, che si esclude sempre da centralina, bisogna escludere anche quella a bassa pressione, che si trova sullo scarico, con l'utilizzo di tappi, saldature, eccetera, per tappare praticamente la fuoriuscita dei gas di scarico che andrebbero di nuovo nel collettore. Quindi le soluzioni ci sono, ce ne sono diverse, ma quello che tutti si chiedono è anche in caso di incidente oppure in caso di revisione, soprattutto perché ogni due anni noi dobbiamo fare la revisione. In caso di revisione, l'assurdità totale italiana è che, dato che queste sono normative europee, seguono l'Europa, ma noi italiani, quando facciamo la revisione, gli NOx non li andiamo a cercare. Quindi non figurano nella nostra revisione gli NOx. Quindi che noi abbiamo l'EGR o non ce l'abbiamo, non cambia nulla. Quindi in sostanza, cosa voglio dirvi io con questo video? L'idea di escludere la valvola EGR ovviamente è quella più semplice e a portata di mano. Siamo italiani, è vero, quindi la soluzione, diciamo, truffaldina di fare questa manovra è dietro l'angolo. Dobbiamo sapere che comunque è una cosa illegale, non si può fare, come tante altre modifiche a qualsiasi altra cosa della macchina. C'è da dire che la valvola EGR esiste per un motivo. Quindi se noi siamo delle persone legate al concetto di ambiente, salute dell'uomo, eccetera, eccetera, e ci teniamo a questa cosa qui, ovviamente non possiamo valutare l'esclusione della valvola EGR, ma semplicemente dobbiamo organizzarci per pulirla. La possiamo pulire anche da soli, bisogna ovviamente metterci le mani, bisogna avere il coraggio di farlo, se no si va dal meccanico che lo fa lui. Io di mio sono uno che farebbe pulizia, ecco, lo farei da solo e quindi escluderei l'idea di togliere la valvola EGR. Detto questo, se ho un'automobile che devo tenere per forza, non ho soldi, non posso comprarmi un'altra auto, ovviamente escluderei la valvola EGR subitissimo. Quindi dipende da ognuno di noi, dalle esigenze che ha e dalle possibilità che ha. Noi, con la valvola EGR e queste strumentazioni qui, se lo escludiamo, il motore avrà sempre aerea pulita e i problemi non ne avrà mai. Abbiamo creato una cosa che distrugge il motore. Non fatevi problemi a livello di revisioni, eccetera, eccetera, perché in Italia non sono assolutamente rilevabili. Ragazzi, io spero di essere stato chiaro, spero di essere stato utile. Vi rimando a tutti gli altri miei video, in descrizione trovate un sacco di link interessanti, andate a dargli un'occhiata. Iscrivetevi a tutti i miei canali, TikTok, Instagram, eccetera, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!